della dell'esperienza appunto del bomber dell'atletico acquaviva si prova in avanti attenzione deve uscire il portiere lo fa prima l'argentino il centrale di difesa del Trani adesso ancora difesa rinvio da parte di Marchitelli Genchi anzi si tratta di Difino allungo di Difino attenzione commette fallo con Guglielmi che prova ad entrare in aria attenzione a Guglielmi va tutto da solo Guglielmi il tiro murato dell'olio ancora riesce ad uscire poi ancora di testa ancora Curci La Serra il cross di La Serra come può allontana Guglielmi per le noci la triangolazione va a chiudere tutto tanto vista Leonino manda a scaldare ancora giocatori prendere in queste categorie il tacco di Genchi sembra un'altra acquaviva in questo momento Guglielmi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.